Buonasera, buonasera a tutti i telespettatori di Lente d'Ingrandimento. Disabilità, abbattimento delle barriere architettoniche, rendere inclusivo questo mondo ai disabili, supportare i disabili e le loro famiglie è una sfida che la politica, le istituzioni e le associazioni insieme devono provare a vincere. Buonasera all'assessore alle politiche sociali e all'istruzione della Regione Campania Lucia Fortini. Buonasera, ben trovata assessore. Buonasera. Buonasera all'assessore del Comune di Napoli Luca Trapanese alle politiche sociali. Buonasera a Lello Marangio, autore e scrittore. Buonasera a Lello, grazie per essere qui con noi e buonasera a Marilu Musto, una collega del Quotidiano Il Mattino. Buonasera. E buonasera a Claudia, che come sempre farà interagire i nostri telespettatori con lo studio. Buonasera, buonasera a tutti i nostri telespettatori. Vi ricordo che nel corso della puntata potete contattarci tramite il numero WhatsApp di Televomero, 339 4628 565. Contattarci tramite email a redazione chiocciolatelevomero.it e ci trovate su tutti i canali social, Facebook, Youtube, Twitter, Instagram. Potete visitare anche il nostro sito www.televomero.it Allora, grazie Claudia. Quando ci sono domande naturalmente interverrai. Prima di entrare nel vivo della discussione, vediamo insieme la copertina curata per noi da Laura Vigiano, Sole 24 ore. Il mondo della disabilità è un po' il mondo dei supereroi della normalità, fatto di un quotidiano difficile e complesso. La rete territoriale che dovrebbe costruire percorsi di inclusione tesi all'assistenza sanitaria, sì ma anche a migliorare la qualità della vita dei pazienti e dei loro familiari, non è sempre facile da intercettare e le falle pesano sempre sui più deboli. Servizi disomogenei, risorse finanziarie non sempre adeguate e carenza di personale formato per assicurare assistenza anche domiciliare. In una giungla in cui è tutto perfetto fin tanto che resta scritto nelle delibere e nelle leggi, ci sono le idee e le soluzioni che, grazie all'intraprendenza di genitori e associazioni, riescono spesso a raggiungere obiettivi importanti da condividere. Tanti sono gli spunti di riflessione che ci dà la copertina. Comincerei proprio dall'assessore Fortini, perché la disabilità è la grande assente delle campagne elettorali? Ma non è assente, nel senso che la politica spesso è molto attenta, è chiaro che non sia semplice affrontare il tema, perché noi a volte diciamo disabilità pensando come se fosse una, mentre è un universo di riferimento e a volte anche attraverso un linguaggio inappropriato riproduciamo degli stereotipi. Una delle cose che per esempio mi colpisce quando ci sono degli incontri è il fatto che i ciechi spesso li si chiamano vedenti, i sordi non udenti, come se avessimo una forma di difficoltà e volessimo per sensibilità utilizzare delle parole gentili e in questo modo invece riproduciamo degli stereotipi, perché la disabilità non è un vulnus. Se una persona non sente è sorda, non dobbiamo sentirci in difficoltà, dobbiamo sicuramente creare una serie di strumenti che possano servire perché quelle differenze non producano un mancato inserimento nella vita sociale. Chiaramente si deve fare attraverso l'ascolto, non è facile anche la programmazione delle risorse. Quello che secondo me però va fatto e quello che cerchiamo di fare in regione è programmare ascoltando naturalmente le associazioni di persone disabili, di modo che in qualche maniera la nostra programmazione possa essere più rispondente a quelli che sono dei bisogni eterogenei, perché stiamo parlando appunto di persone che hanno comunque una serie di esigenze diverse e in questo modo secondo me è possibile comunque intercettare quei bisogni. Assessore Trapanese, il diverso da te ancora diciamo mette paura, in qualche modo mette in difficoltà anche l'interlocutore, bisogna parlare della disabilità in maniera molto più esplicita come giustamente sottolineava l'assessore Fortini. Sì assolutamente, noi siamo in una società che è educata da sempre a parlare di perfezione e di usare la parola normalità come se fosse la parola che equivale a tutti mentre la normalità non esiste, nessuno si può arrogare il diritto e stabilire chi o cosa è normale. Il problema della disabilità è, io credo che sia anche un problema culturale cioè che è completamente assente nella crescita delle persone immaginare di avere un diverso di fronte e di avere la possibilità di incontrare un bambino che è completamente diverso dall'altro quindi non c'è un'educazione sociale a questo e allora la comunità è molto impreparata. È vero che non ci sono delle risposte adeguate, le famiglie sono sole, molto spesso abbandonate e fanno una grande fatica da quando ti nasce un bambino disabile a quando tu genitore giustamente non ci dovrai essere più quindi tutto il percorso è un percorso costruito sicuramente grazie alle associazioni, sicuramente c'è una parte che le istituzioni cercano di fare e di mettere quanto più in campo possibile però non c'è omogeneità in questo percorso e questo fa nascere una profonda solitudine, un isolamento e secondo me anche un'ignoranza nel senso semplice della parola di chi non ha nella vita della propria famiglia una personalizzabile C'è la mancanza proprio di conoscenza, delle difficoltà del quotidiano Lello, tu hai scritto un libro al mio segnale scatenate l'infermo dove parli della disabilità in maniera totalmente diversa anche ironizzando e questo in qualche modo ti ha anche aiutato essendo tu portatore di Endica Sì, assolutamente sì ho tentato e visti i risultati di questo libro insomma la cosa è andata a buon fine di parlare di disabilità da un'ottica completamente diversa da quella con la quale si parla normalmente mi faceva piacere sentire quello che diceva l'assessore perché secondo me oggi bisogna dare i nomi propri alle persone alle cose e alle situazioni quando uno è sordo è sordo che tu lo chiami diversamente a me o mi chiami portatore di Endica o disabile o disabile comunque la disabilità c'è quindi con questo libro ho cercato di capovolgere diciamo l'ottica di partenza che non è parlare della disabilità parlando della mia perché questa è una mia autobiografia ho parlato in maniera ironica della mia disabilità in modo tale perché purtroppo l'ho vissuto sulla mia pelle la disabilità è una problematica che tocca chi appunto è toccato dalla disabilità la gente o deve avere una sensazione dentro come l'ha avuto ad esempio l'assessore adottando questa bambina la meravigliosa Alba che tutti noi conosciamo e seguiamo ma di solito insomma la disabilità a me è capitato molto spesso che tu vai anche in spiaggia le persone ti vedono sei disabile ti vedono un attimo però dopo è finita quindi diciamo la problematica tocca a chi c'è l'averamento poi dopo si disinteressa io ti dico che grazie a questo libro io riesco ad avere un rapporto più diretto con te perché altrimenti magari mi potevo in qualche modo sentire in difficoltà perché pensavo di poter toccare la tua sensibilità infatti è anche la colpa di alzare delle barriere anche dei disabili cioè nel senso che io se parlo della disabilità in questo modo è come quando do la pillolina al bambino ci metto un poco di zucchero il bambino prende la pillola e prende anche lo zucchero perché a volte è pure il rapportarsi con le persone quindi parlando in questo modo a me sono successe delle cose con questo libro che dopo se c'è tempo lo racconterò che mi hanno fatto capire che è la strada è questo qua di cambiare proprio il codice di rapportarsi con le persone assolutamente ci torneremo invece mi piace anche parlare di questa che io chiamo un'iniziativa importante sono salvo questo fumetto che è stato presentato Marilu è la mamma di salvo un bambino bellissimo che ha problemi di autismo però supportato è riuscito in qualche modo a esternare tutte le sue potenzialità ci racconti di questo progetto? sì, il fumetto nasce innanzitutto per cambiare la narrativa dell'autismo quindi non legata sempre al pietismo ma in qualche modo ad un aspetto simbolico e soprattutto ironico è chiaro che le parole valgono quello che dicono diceva Moravia quindi hai ragione cambiare anche la terminologia però è giusto anche farlo capire alle nuove generazioni quindi lo strumento trasversale come il fumetto può essere facilmente comprensibile ai bambini è iniziato questo progetto da un disegno di salvo che mio figlio nel 2021 durante il lockdown disegnava questo pagliaccio ovunque quindi sui fogli di carta ma anche sulle pareti di casa purtroppo e quindi non ho fatto altro che valorizzare questo suo demone che è appunto il pagliaccio che lui utilizzava come un suo alter ego e non ho fatto altro che cambiare la narrativa ma anche renderlo felice la parola felicità in greco è eudamonia quindi realizza il tuo demone non ho fatto altro che realizzare il suo sogno quello di rendere reale un personaggio fantastico che continuava a disegnare e quindi è diventato un marchio che ho tranquillamente registrato e poi c'è stato questo sponsor politico che è appunto Chiara Gemma, questa eurodeputata che ne ha fatto addirittura un fumetto quindi uno strumento culturale di racconto per le nuove generazioni perché sta cambiando anche la lettura della disabilità all'interno delle nuove generazioni, dei giovani e degli studenti e sarà distribuito anche nelle scuole quindi è un messaggio anche per gli altri bambini che devono in qualche modo sapere accogliere anche il bambino diverso ma senza farlo sentire diverso Sì, in questo mi ha aiutato la politica del fare lo stile Faber di questa politica infatti perciò dicevo basta poco veramente i fondi ci sono basta la volontà, basta un'idea ed è possibile farlo ovviamente oltre al cambiamento culturale devono esserci anche i fatti però per questo parleremo dopo Assolutamente i fatti da casa Claudia vedo che già sono arrivate delle domande Sì, abbiamo una domanda per l'assessore Fortini ci chiedono inclusione nel mondo del lavoro quali sono le misure adottate dalla regione Campania? Ma ci sono una serie di fondi che sono utilizzati per tutoring all'interno delle aziende una delle cose che ho notato non me ne occupo io direttamente sono deleghe in realtà dell'assessore al lavoro però una delle difficoltà che spesso hanno le imprese nell'assumere è la paura che una persona con disabilità possa creare problemi soprattutto per quanto riguarda la disabilità psichica e allora abbiamo immaginato che la possibilità comunque di avere un tutor che in qualche maniera ti accompagni all'interno delle imprese quindi far conoscere perché poi alla fine è quello se tu devi assumere un disabile hai paura se tu devi assumere Marco potrà avere delle caratteristiche che ti piacciono altre che non ti piacciono come naturalmente avviene per chiunque il preconcetto rispetto alla disabilità in realtà c'è soprattutto per le malattie psichiche perché tu davvero hai timore di non sapere gestire per cui attraverso comunque un tutor che ti possa accompagnare in azienda quindi in qualche maniera qualcuno che ti possa guidare e possa anche tra virgolette garantire l'azienda è possibile poi naturalmente che l'inserimento ci sia e poi c'è stata una delibera che abbiamo approvato da qualche mese che dà la possibilità nel caso in cui le aziende perché le aziende quando non assumono una percentuale di disabili pagano anche delle sanzioni a volte sono anche molto alte ma le aziende preferiscono pagare le sanzioni anziché abbiamo approvato questa delibera che consente la possibilità alle aziende di assumere ma queste persone possono andare a lavorare a prestare la loro opera in enti del terzo settore che è una cosa che abbiamo notato pure è funzionale anche perché parlo dell'esperienza personale io non ho mai voluto diciamo avere la pensione di invalidità per esempio cioè io ho sempre lavorato anche in un'impresa privata e io ricordo ancora quando ero piccolo mio padre mi disse adesso faccio una nota mi disse non ti permettere non voglio avere mentre c'è una corsa sfrenata ad avere la pensione anche da parte di chi non avrebbe bisogno oppure non avrebbe il diritto ad avere le pensioni e io dissi di no e questa scelta mi ha portato bene perché ho lavorato per 18 anni in un'impresa privata poi mi sono messa a fare le cose che conosci perfettamente quindi anche cambiare anche ribaltare anche questo senso cioè il disabile ha delle forze dentro ha delle prerogative che secondo me certo lei è vissuta come una sfida da vincere però ci sono anche dire forza dentro c'è qualcuno che ci avrà la forza qualcuno no e la cosa secondo me sbagliata anche con i bambini è quando noi diciamo ai bambini siamo tutti uguali non è vero non è che il disabile è differente da un altro bambino ogni bambino è diverso quindi noi dovremmo utilizzare un linguaggio corretto per far capire che ci possono essere delle persone che hanno qualcosa di più in comune a noi perché per esempio sono empatici altri che hanno i capelli biondi ma voglio dire siamo tutti diversi dovremmo partire da questo chiusi nelle gambe della normalità salvo poi capire che cosa sia la normalità assessore Spapanese infatti la normalità non esiste il problema secondo me è dobbiamo anche ribaltare un po' il concetto di inclusione che viene normalmente utilizzato per le categorie svantaggiate per i disabili i bambini con problemi gli immigrati però fondamentalmente l'inclusione riguarda tutti noi noi dobbiamo essere tutti inclusi o siamo esclusi nel mondo del lavoro dell'affettività della famiglia iniziamo a parlare di convivenza cioè la convivenza delle diversità di ognuno di noi e quindi a ribaltare parliamo non più delle disabilità ma parliamo delle capacità ogni persona ha delle capacità e dobbiamo fare in modo che queste capacità possono essere messe a frutto per la società intervengo per una cosa l'assessore Fortini forse non una cosa che mi faceva piacere ricordare noi abbiamo attivato 100 tirocini di formazione per ragazzi disabili con fondi della regione Campania l'abbiamo fatto con l'assessore Marciani di TIA esatto quindi mi faceva piacere darti questo supporto quindi sono qualcosa istituzioni politiche che fanno se si mettono insieme io credo che lei si riferisse ai collocamenti mirati che sono i collocamenti dove gli imprenditori possono prendere le persone con disabilità va bene la delibera però la delibera appunto che prevede appunto l'assunzione però per le imprese che assumono ci sono degli sgravi c'è un vantaggio che cosa c'è ma in realtà non è che ci siano sgravi o vantaggi le imprese in realtà hanno un obbligo di legge però appunto preferiscono pagare quindi per come dire agevolare l'assunzione ma in realtà non sono le risorse economiche che fanno decidere l'impresa ad assumere e in realtà noi abbiamo verificato che non è così quando tu paghi una sanzione cioè sei disposto a pagare una sanzione anziché assumere significa che non è il vantaggio economico che ti in qualche maniera mentre il tirocinio per esempio i tirocini formativi che abbiamo finanziato ma anche la possibilità di avere un tutor cioè quello che fa decidere l'imprenditore è scoprire sentirsi sicuro tra virgolette che una persona con disabilità può essere eccezionale e può portare valore vantaggio cioè più la paura di inserire nell'organico una persona con disabilità che potrebbe dare di effetti negativi è una questione di approccio culturale e ripeto nel termine buono della parola di ignoranza perché se poi andiamo ad analizzare tutte quelle aziende che hanno assimilato nella loro vita lavorativa le persone disabili diciamo il feedback è positivo perché superata la paura poi c'è un'acquisizione maggiore tra i dipendenti c'è una forma proprio diversa una visione esterna della clientela perché vedo quando io entro e vedo dietro a un bancone per esempio del bar un ragazzo disabile sono molto più contento cioè mi sento molto più partecipe di questa forma di inserimento secondo me c'è un problema di base che noi mettiamo nel calderone disabilità tutto non sappiamo distinguere innanzitutto chi è malato e chi è disabile quindi una cosa è la persona malata che vive un momento di malattia può guarire o non farcela una cosa è una persona disabile che nasce disabile viverà per tutta la vita nella sua disabilità noi dobbiamo pensare a quella persona malata ha bisogno di alcune risposte la persona disabile invece ha bisogno di completamente altre risposte e quindi anche la società a volte è confusa rispetto a chi è disabile chi è malato chi ha bisogno di assistenza e chi invece ha bisogno di inserimento lavorativo vita autonoma sessualità indipendenza certo però in ogni caso insomma bisogna supportare sia le famiglie che il disabile questo insomma è un andato fondamentale Claudia sì una domanda per Lello Marangio lei è un esempio che la disabilità non è un limite per realizzarsi nel mondo del lavoro e anche a livello personale qual è il suo segreto? diciamo che per quello che faccio io perché io faccio l'umorista e lo faccio ormai da 30 anni tu sei l'autore di tantissimi comici famosi sì a partire da Dele Caribaldi fino a finire a Peppy Knight tutte le ultime trasmissioni ho scritto per Peppe Iodici per Pallo Cagliazza per Bedi Sud insomma questa diciamo è la mia attività di me ci sta un po' un paradosso nel senso che di solito la disabilità viene vista il disabile con quello là che è un po' appesantito diciamo un po' chiuso dalla problematica invece sono anche un umorista ti racconto questo una volta siamo andati a un mio comico e è andato a fare una serata in Umbria e ha visto una persona che aveva il titolare di questo locale aveva la disabilità la polio come me la polio come me quando questo comico disse guarda tu sei hai lo stesso problema del mio autore lui non ci credeva perché secondo lui chi ha la polio non può essere una persona spiritosa non può essere un umorista non lo può fare la partenza è questo diciamo io l'ho scritto nel libro la disabilità è un lavoro sporco che qualcuno deve pure fare quindi io sono stato contagiato dal batterio dal virus della polio però sono stato anche contagiato in maniera non so come dal virus dell'umorismo e le due cose che si sono combinate mi hanno portato a fare l'umorista disabile quindi il segreto è nel punto di partenza nel senso come ho avuto quel tipo di problema ho avuto anche questa caratteristica di fare un umorista Marilu tu quando hai scoperto che il tuo figlio era autistico indubbiamente insomma hai avuto un contracolpo psicologico ma poi ti sei rimboccata le maniche e hai detto bisogna supportarlo e sostenerlo sì non avevo previsto ovviamente che mio figlio nascesse così quindi è ovvio che è una doccia fredda insomma quando c'è la diagnosi poi ovviamente grazie anche al mio giornale ho beneficiato di un anno di aspettativa per imparare come si facesse terapia a mio figlio perché anche i genitori diventano terapisti in questo mondo la cosa che mi ha più colpito è che la scuola a volte è impreparata nell'accogliere diciamo i ragazzini con autismo le terapiste sono entrate subito appunto nel mio mondo anche si ragiona per team il team devono fare alcune cose quindi anche la famiglia entra a far parte di questo team e quindi anche le insegnanti è chiaro che oltre l'Italia ci sono le classi differenziate quindi i bambini disabili vengono esclusi dal mondo classe però è anche vero che vengono seguiti e fanno alcuni progetti mentre adesso la struttura italiana scolastica è quella più inclusiva in assoluto se non mi sbaglio al mondo è la più inclusiva però è chiaro che i bambini sono in classe con gli altri però progetti diciamo che in qualche modo li aiutino sono limitati ad esempio ho proposto più volte a scuola fare un tipo di laboratorio esterno ad esempio la scuola nel bosco che altre classi fanno e quando lo proponi sembra qualcosa di impossibile quando in realtà un orientamento diciamo anche dal punto di vista regionale potrebbe esserci a impartire un tipo di istruzione diversa da quella istituzionale in fondo l'inclusione è anche questo adeguarsi alle esigenze del bambino che non è normotipico e quindi le istituzioni sono più rigide rispetto invece al modo della famiglia che è più aperto alle innovazioni e in qualche modo alla terapia in questo caso labba perché mio figlio fa labba che invece è molto più estesa diciamo e ha un concetto di team più allargato ecco la rigidità delle istituzioni si può in qualche modo limare e dare un orientamento anche un po' più inclusivo e progettuale alle insegnanti ma prima che risponda l'assessore Fortini salutiamo la collega del Sole 24 Ore Anna Rita D'Ambrosio in collegamento buonasera Anna Rita grazie per essere qui con noi anche se a distanza buonasera a voi grazie a voi allora ascolta la risposta dell'assessore Fortini alla domanda che le poneva la collega Marilu Musto e poi intervieni ma anche rispetto alle scuole non è che puoi dare un indirizzo a tutte le scuole e a tutti gli insegnanti puoi sicuramente indicare una strada il fatto che comunque noi finanziamo una serie di progetti per le scuole per modificare quella che è la didattica che però in realtà secondo me è giusto fare con tutti gli studenti e le studentesse parlo per esempio del progetto Scuola Viva ma c'è stato un progetto che abbiamo finanziato per le scuole rispetto ai BES ai bisogni educativi speciali quindi modalità didattiche che possano essere differenti che danno anche un senso diverso a quello che studi e quello che impari perché quando tu parli di che ne so lezioni nel bosco puoi dare anche un senso rispetto a quello che tu studi perché una cosa è se tu un ragazzo ora al di là del fatto che possa avere una disabilità o meno fai studiare una pagina di libro altra cosa è se tu fai vedere qualcosa e poi casomai fai approfondire quindi ovviamente non si può imporre una modalità didattica ad un insegnante ma far capire che casomai non far sentire il peso e la pressione anche all'insegnante rispetto a raggiungere degli obiettivi perché poi alla fine almeno dal mio punto di vista l'importante è che i ragazzi stiano bene che possano imparare e crescere in maniera curiosa quindi forse anche togliere pressione agli insegnanti non devono raggiungere degli obiettivi o dei risultati che non siano il benessere devono far crescere serenamente oltre che rendere l'ottima i ragazzi la serenità al punto centrale Annerita tu ti occupi chiaramente di economia e ti occupi di bonus a 360 gradi ma esistono dei bonus per poter rendere più accessibile questo mondo alle persone con disabilità? Sì ne esistono tanti forse sono poco conosciuti mi piace citare da ultimo il bonus per l'abbattimento delle barriere architettoniche ci sono tantissime associazioni che si occupano di questo e nelle nostre città le difficoltà le vediamo io sono napoletana vivo a Milano da 21 anni le difficoltà di Napoli sono le stesse di Milano quando si dice che Milano è capitale europea in questo non lo è perché le persone in carrozzina hanno esattamente le stesse difficoltà questo bonus barriere architettoniche del 75% è un'agevolazione fiscale del 75% per i lavori non riguarda solo gli edifici gli stabili io mi occupo di condominio in maniera specifica non riguarda solo i condomini italiani dove c'è la presenza di un disabile accertato ma è un bonus che si rivolge a tutti perché anche l'anziano che ha difficoltà a salire le due scale per poi prendere l'ascensore va tutelato anche la mamma con il carrozzino nei nostri palazzi alle volte ha delle difficoltà quindi questa agevolazione è un'agevolazione che si rivolge agli amministratori di condominio che diciamo devono promozionarla all'interno delle assemblee e si rivolge però anche alle singole persone cioè se io faccio dei lavori a casa mia pensiamo che ne so ai servizi igienici di una casa se uno ha una casa piccola e ha un amico in carrozzina quello non lo può andare a trovare perché non entra nel bagno quindi chiaramente anche individualmente si può procedere questa agevolazione agevola i lavori per il 75% grazie Annerita Lello tu nel tuo libro hai raccontato vari episodi hai raccontato anche di episodi veramente sgradevoli quando magari ti sei trovato in vacanza avevi chiesto se il luogo dove ti recavi fosse accessibile per le tue condizioni e ti hanno detto sì tutto a posto è bellissimo venga sei andato lì e cosa è accaduto ma in vari episodi in vari posti è accaduto tutto il contrario nel senso che io prima di spostarmi da casa è chiaro che io mi informo perché oggi che ci siano le leggi anche i bonus come diceva la dottoressa le leggi non vengono applicate quindi a me è capitata perché poi la cosa è che anche i disabili vanno a mare oppure vorrebbero andare una una un disabile per tutte le stagioni per tutte le stagioni una per un periodo per esempio era complicato all'inizio era complicatissimo vedere adesso qualche passerella si vede che porta al mare ma prima era proprio impossibile in un villaggio in Puglia praticamente io ho prenotato ho pagato ho fatto tutto non ci sono problemi non ci sono barriere è stato tutto abbattuto non c'era io non potevo scendere neanche dalla macchina ma realmente perché praticamente con la carrozzina non c'era non era asfaltato c'erano il pietrisco a terra quindi tu camminando diventavi una mitragliatrice la carrozzina pericoloso per te per gli altri per tutti mi fece fare il giro l'unica cosa c'era questo bungalow nel quale l'unica cosa attrezzata era il gabinetto il bagno al che io dissi ma secondo te io sto 15 giorni nel bagno e quindi non mi posso muore sì è comodo ci sono queste che poi tra l'altro tutta la normativa tubi ovunque come se il disabito si dovesse appendere per il muro per andare in bagno insomma così me ne andai lasciai la cosa li denunciai la cosa bella è che invece loro erano abbinati a un tour operator loro invece furono molto gentili e mi offrirono una vacanza gratuita in Sardegna nel quale effettivamente poi le barriere architettoniche erano tutte abbattute però è difficile è molto difficile è molto difficile una cosa che volevo dire quando riguarda proprio la sensibilità delle persone che io poi uno coglie nei centri commerciali per esempio c'è questa corsa a mettere la macchina al posto dei disabili io posso capire se tu metti la macchina vicino all'ingresso è perché vuoi camminare poco poi mi devi spiegare perché all'interno del centro commerciale ti fai 8 km a piedi girando per i negozi semmai portando anche il carrello questa è proprio una mancanza di di sensibilità perché vuoi stare vicino e poi dentro cammini questo è quello che hanno detto Luca Trapanese lei ha adottato questa splendida bambina affetta dalla sindrome di Down è stata più la paura del dopo o diciamo di tutto l'iter che comunque avrebbe dovuto affrontare lei tra l'altro anche single quindi insomma senza il supporto di un'altra persona con cui condividere un'esperienza così intensa io vorrei sdoganare questa questa storia nel senso che io non ho avuto nessuna paura ma non perché fossi più sensibile di chiunque altro o perché volevo fare un bel gesto è perché io ho lavorato nel mondo della disabilità da quando avevo 16 anni mi sono formato quando il giudice mi ha chiamato per prendere Alba io ero in vacanza con 20 ragazzi tra cui molti con la sindrome di Down quindi non ho dovuto affrontare l'accettazione il momento di dire oddio sto generando un figlio disabile per me era scontato con la consapevolezza di iniziare un percorso faticoso difficile in salita ma la mia preparazione era ovvia poi è chiaro io sono genitore quindi quando sei genitore tante cose si annullano quando ero sulla spiaggia quest'estate un bambino si è avvicinato e mi ha detto mamma mi dice che lei indicando Alba è malata ed è anche brutta lì non c'è stato né assessore né operatore né educatore che ha potuto mantenere la sua rabbia legittima non tanto la rabbia ma la disperazione rispetto a una società impreparata innanzitutto non è malata ha una sindrome ed è può campare se tutto va bene cent'anni ma c'è una questione di grande ignoranza e di impreparazione non è colpa di quel bambino non è colpa di quella mamma ma è l'espressione di una società impreparata magari anche rispetto al villaggio no e magari pensavano di avere tutto a posto invece per loro avere il bagno e non avere e quello è tutto fatto invece c'è tanto altro no perché poi loro dicono ci sono solo due metri da fare in quei due metri è un mondo per una persona poi sicuramente c'è tutta la consapevolezza che tu devi lavorare quando hai un figlio disabile al futuro di tuo figlio e lo devi fare tu come genitore e purtroppo ma questo non c'entra l'assessore non c'entra l'assessore comunale purtroppo non c'è un vero progetto dello Stato che pensa a tuo figlio quando tu non esiste non esiste non c'è neanche un'evoluzione politica perché l'attuale ministro della disabilità è senza portafoglio faccio un esempio ed è la seconda volta che succede quindi non c'è neanche una responsabilità economica su questo fronte io sono contro il ministro della disabilità può sembrare strano se è un ministero come lo è oggi io penso che il ministro della disabilità debba interagire in tutti i ministeri e nel momento in cui io sto creando la legge sul lavoro la legge sulla cultura la legge sulla istruzione la scuola il ministro debba entrare in quella legge e dire un momento tu stai facendo la legge sul lavoro allora vediamo tutta la parte legata alla disabilità allora questo ha un senso ma io come genitore non la voglio un'altra disability card vorrei un cambiamento esatto vorrei un cambiamento non solo proprio culturale di prospettiva per esempio sapete che cosa significa per un genitore quando tu generi un figlio disabile e non sai nemmeno quali sono i tuoi diritti quindi molti genitori che sono distrutti non hanno il tempo di capire che possono avere la 104 da subito andare di fronte a quella commissione che è giustissima è una commissione faticosa psicologicamente molto faticosa allora quello che dico se ci sono delle patologie disabila conclamata se io nasco con la sindrome di Down una malformazione genetica con una con una qualunque cosa che si è acclarata è chiaro l'autismo lo sappiamo dopo quindi dobbiamo ma se io nasco anche lì non è che si esce fuori anche nell'autismo non è che si esce fuori della diagnosi esattamente ci sono delle funzionalità che aumentano però lo sai dopo ma al momento della nascita se hai la sindrome di Down ce l'hai punto è basso riconoscetemi di default l'invalidità in ospedale stesso è la 104 è la pensione perché questo significa che io genitore mi sento abbracciato dallo Stato e che quindi già ho un percorso già ce l'ho fatto invece andare davanti a quella commissione sapete quanti genitori lo fanno dopo anni perché non lo sanno sono spaventati si vergognano è umiliante è umiliante questo manca quindi piccole cose che salvano però anche perché come dicevi tu quando riguarda la disability card oppure il ministero certe cose servono a tutti perché immaginate un lido dove c'è la passione quella passerella quella passerella non esistono persone che vanno a mare e non utilizzano la passerella anche se sono normodotato oppure ecco la mamma col carrozzino quindi quella passerella non serve solo a me serve a tutti perciò non serve un ministero per la disabilità però se poi volevo dire una cosa anche perché poi le cose sono cambiate perché io ho 63 anni sono stato uno degli ultimi a prendere la polio infatti io là dentro lo dico quando ero io bambino c'era una possibilità ogni 40.000 di prendere la schedina del totocalci e non l'ho preso e l'ho preso invece la polio che c'era una possibilità minore e l'ho preso però in quel periodo la polio era oramai prendeva un poco tutti però le cose sono un po' cambiate voglio spezzare anche una lagge nel fuori della società perché quando io ho iniziato a fare nuoto perché io sono ho fatto e faccio ancora nuoto sono un atleta paralimpica va bene quando ho incominciato a fare nuoto c'è stato un circolo a Napoli importantissimo importantissimo che non cito diciamo per vergogna loro che non mi hanno accettato cioè il presidente di quel circolo di Napoli mi ha accorto là dicendomi signor Marangelo lei non può entrare perché ovviamente stanno tutti imprenditori napoletani se vengono lei in carrozzina si deprimono io lo direi però chi è questo è in questo punto lo direi sono passati anche è cambiata anche la gestione è cambiato tutto però insomma è molto triste questo io lo posso anche dire però questa cosa qua rispetto a prima è cambiato molto quindi ci sono ancora come si dice a Napoli delle persone che se ne disinteressano dei disabili però delle cose sono cambiate sono cambiate un attimo facciamo intervenire da Milano a Narita che ha una domanda per i nostri ospiti Sì io volevo sono rimasta molto colpita dalla storia della collega e da questo libro molto bello è possibile cioè è distribuito solo nelle scuole della Campania? È distribuito nelle scuole della Campania posso distribuirle anche io perché sono con fondi europei quindi se qualcuno lo desidera la posso spedire tranquillamente oppure contattando l'eurodeputata Chiara Gemma Sì perché secondo me è un libro che dovrebbe avere una diffusione nazionale io ritengo perché la storia è importante perché significa una speranza anche per tante mamme per tanti genitori e per i bambini stessi è un modo diciamo per renderli è trasversale esatto trasversale va bene per gli adulti e soprattutto per i bambini perché noto già nella classe di mio figlio che qualcosa è cambiato hanno accolto con grande amore anche la presentazione insomma io ho assistito alla presentazione insomma ho visto questi bambini entusiasti e parlavano di salvo come un bambino speciale un bambino straordinario che arricchiva in qualche modo la classe non era un problema non era un handicap Claudia da casa Sì abbiamo una domanda per l'assessore Fortini la più gettonata l'assessore Fortini ci chiedono i familiari possono avere un supporto psicologico in realtà non c'è un supporto psicologico per i familiari anche se devo dire che rispetto all'autismo proprio qualche settimana fa c'è stato un incontro con circa 150 associazioni perché ci sono dei fondi che dobbiamo programmare fondi del sociale lo dico perché per la prima volta la sanità vuole lavorare insieme al sociale cioè la prima volta che i fondi sono del sociale si cerca di lavorare insieme però chiaramente ho chiarito che sono fondi per il sociale cioè non in qualche maniera per terapie ma per l'inclusione e per la prima volta ci siamo incontrati perché mi piaceva l'idea che si programmasse insieme per cui da quell'incontro e da una serie di sollecitazioni che sono venute dopo abbiamo deciso di fare un bando rivolto agli enti del terzo settore insieme in ATS quindi insieme con le associazioni che si occupano di autismo e insieme se si vuole ma non sono enti obbligatori ai distretti sanitari e agli ambiti territoriali quindi una programmazione che sia sperimentale nel senso che per la prima volta intercetti quelli che sono i bisogni che possono essere bisogni delle famiglie bisogni dei ragazzi quindi per per la prima volta sarà veramente una lettura del bisogno io non so che cosa mi proporranno gli enti però devo dire che rispetto a questo non ci sarà il problema delle risorse nel senso che abbiamo queste risorse nazionali ma poi naturalmente potremmo in qualche maniera intervenire anche rispetto a risorse del Fondo Sociale Europeo quindi speriamo che vengano veramente ben spese insomma queste risorse che possano produrre progetti in grado di supportare aiutare tante persone ma anche che ci possano dire le persone quello di cui hanno bisogno esatto cosa male perché alla fine non c'è ecco per esempio io non avevo mai pensato al supporto psicologico alle famiglie i caregiver già sono differenti nel senso che prestano la loro opera però il supporto psicologico nel caso appunto ne avete parlato voi ci potrebbe essere una difficoltà e secondo me sarebbe necessario perché certe volte l'impatto veramente è devastante per le famiglie perché poi chiaramente ognuno ha un carattere quindi ognuno ha un modo da approcciare c'è Lello Marangio che ci mette ironia in tutto quello che fa ma è una qualità insomma rara in questo momento Anna Rita da Milano un'ultima domanda per i nostri ospiti e poi ti salutiamo e ti lasciamo al tuo lavoro sì volevo chiedere all'assessore trapanese il tessuto di associazioni sul territorio quanto è vasto in relazione nella disabilità allora sì noi siamo fortunati a Napoli ci sono tante associazioni anche molto serie anche molto radicate che hanno praticamente forniscono tanti servizi soprattutto molte associazioni sono per il post scuola cioè il problema è dopo la scuola perché fin quando c'è la scuola c'è una forma di vita sociale ci sono le terapie ci sono le attività laboratoriali i corsi le vacanze ma dopo la scuola purtroppo molti ragazzi disabili restano completamente isolati non riescono a mantenere quelle amicizie scolastiche le associazioni presenti sul territorio sono tante e sono tutte valide io devo dire che tutte quelle che ho conosciuto come associazione volontariato o del terzo settore che si occupano di disabilità lo fanno prima per una vocazione per una crescita per qualcosa che hanno all'interno della propria famiglia o del proprio vissuto e poi perché deve essere lavoro quindi le associazioni sono tante non ne voglio nominare nessuna perché veramente ne sono tante e sono tante le offerte soprattutto laboratoriali ludiche di inserimento lavorativo di formazione di esperienze di vacanze di esperienze di allontanamento per esempio sono tante le associazioni che con i fondi della regione campagna che quest'anno ci ha dato anche di più con il dopo di noi ci ha riconosciuto dei fondi in più sono tante le associazioni che hanno accompagnato i genitori a fare dei veri e propri progetti di autonomia non solo autonomia di abbattimento delle barriere ma anche di riconoscimento di una figura in presenza del proprio figlio che sia una figura di agevolazione verso l'autonomia ma proprio una serie di progetti anche legate poi alle vacanze estive ai percorsi di inserimento proprio professionale quindi sul territorio cittadino sono tante e forse lo dico con un rammarico per anni si sono sostituiti alle istituzioni soprattutto quelle comunali allora salutiamo e ringraziamo la collega da Milano del Sole 24 Ore Anna Rita D'Ambrosio grazie buona serata e buon lavoro grazie a te e un saluto ai tuoi ospiti ti saluta anche lo studio andiamo avanti Claudia sì abbiamo una domanda proprio per l'assessore trapanese ci chiedono da casa ha paura del bullismo quando Alba crescerà siete bellissimi grazie sì io ho molta paura ho paura di questa dei giovani di oggi che sono completamente abbandonati a se stessi noi abbiamo delle relazioni di servizi sociali oggi stiamo lavorando proprio sull'adolescenza e le relazioni sono molto faticose sono ragazzi scollegati dalla realtà sono ragazzi violenti sono ragazzi purtroppo che si dedicano molto ai cellulari e ai social hanno fatica a relazionarsi tra di loro hanno dei messaggi delle come posso dire degli obiettivi irraggiungibili e questo si riverbera anche poi nel mondo della violenza e del bullismo il problema è il nostro è degli adulti cioè questi sono i nostri figli è sicuramente questa mancanza che noi non siamo riusciti a dare ai giovani di oggi quindi bisogna lavorare tanto lavorare io credo con la scuola la famiglia le istituzioni le associazioni partendo anche dal pediatra cioè creare una rete dove da quando mio figlio nasce c'è una rete collaterale che supporta la famiglia e che supporta poi la crescita di questo bambino che sia disabile o meno perché oggi anche chi genera un figlio cosiddetto normodotato non è che può dormire sonni tranquilli quindi bisogna lavorare assolutamente su questo girerei questa domanda della nostra telespettatrice anche a Marilu Musto sì certo che ho paura del bullismo secondo me è chiaro che le famiglie molto spesso non ci sono quindi a volte le istituzioni aiutano a compensare questa mancanza si può introdurre per esempio un sistema di premialità all'interno delle scuole per esempio il ragazzino difficile il bullo può essere indotto ad andare ad occuparsi del ragazzino disabile in classe il pomeriggio e quindi premiarlo invece a scuola con un voto questo può essere un modo di compensare la mancanza diciamo così della famiglia in maniera semplice in uno stile facile quindi questa elasticità anche degli insegnanti potrebbe aiutare anche il ragazzino bullo a emergere a crescere in qualche modo e a confrontarsi con la disabilità e il disabile a non restare solo perché anche gli eventi che riguardano la disabilità spesso trovano il tempo dell'evento poi il sabato sera i ragazzini restano a casa non c'è nessuno che bussa alla loro porta per uscire questa è la verità questo è organizzato invece per bullizzare io da disabile le persone normali secondo me potrebbe essere una chiave di lettura diversa fermo restando che secondo me c'è un problema per chi è bullizzato e chi bullizza cioè nel senso anche quella è una manifestazione di un disagio e va analizzata quella manifestazione cioè noi come adulti o come società dobbiamo chiederci perché c'è questa esaltazione enorme della violenza del volersi prendersi proprio carico in maniera negativa di chi è più fragile c'è qualcosa che non va perché c'è una realtà virtuale che è quella dei social che non è attenta alla persona ma è bisogno a quello che trasmette alla sensazione che ha è una realtà violenta troppo sì non è filtrata dalla realtà certo Claudia si riguardo proprio questo argomento un telespettatore ci scrive è importante supportare esempi come il notatore Manuel Bortuzzo per promuovere l'inclusività dei giovani Mario Manuel Bortuzzo ah no questo è un aspetto mi permette di dire perché ci sono molte persone che arrivano a una certa età hanno dei problemi improvvisi di disabilità e là incominciano a interessarsi della disabilità però il problema è che cosa è successo prima perché purtroppo quando poi ti tocca personale poi diventano diciamo paladini brevissimamente assessore con i fondi del PNRR si può investire in progetti di inclusività ma ci sono fondi che sono arrivati direttamente agli ambiti territoriali le regioni non hanno nessun tipo di ruolo e questo secondo me per farli funzionare però il problema è lì io lo dico sempre è molto più facile fare l'assessore regionale piuttosto che l'assessore comunale perché poi noi facciamo programmazione la realizzazione aspetta comunque ai comuni quindi agli ambiti territoriali io non credo che sia un fatto comunque di risorse è proprio il cambiamento d'approccio di cultura di mentalità e poi sicuramente ci scontriamo con un sistema inefficiente delle amministrazioni comunali che a volte sono terribili perché ti bloccano anche un solo ambito ti blocca il finanziamento delle risorse in tutti gli ambiti quindi noi come Comune di Napoli abbiamo approvato abbiamo fatto approvare tutti i fondi destinati alla disabilità del PNRR abbiamo anche avuto dei punteggi alti al pari di Reggio Emilia e di Milano sono tutti progetti legati all'autonomia all'housing dove creeremo delle strutture proprio delle micro comunità per ragazzi che vogliono intraprendere un percorso di autonomia allora noi siamo in chiusura della nostra trasmissione mi piace ricordare la prossima presentazione del libro Pagine Gialle di Lello Omarangio naturalmente tutti i tre spettatori consiglio vivamente la lettura di questo libro al mio segnale Scatenate l'Infermo è un libro che veramente è utile leggere per tutto è anche il titolo è geniale volevo farmi ringraziare la casa editrice Homo Scrivens che ha creduto in questo progetto e insieme a loro ho pubblicato altri quattro libri e uno lo andò a presentare a Napoli Città Libro questa bellissima manifestazione di Alessandro Polidore e di tutto il suo gruppo e io sarò con il mio libro Pagine Gialle il 15 aprile in compagnia di Gino Riveccio e a Marilu Musto dico non ti arrendere porta avanti questo progetto che secondo me è una cosa importante come chiedeva la collega Annalisa D'Ambrosio magari se questo fumetto lo si distribuisce diciamo anche su scala nazionale è un aiuto che diamo ai nostri bambini ringrazio l'assessore Lucia Fortini grazie buona serata ringrazio Luca Trapanese l'assessore alle politiche sociali del Comune di Napoli buonasera ci saluti sempre Alba che seguiamo è stato anche un po' criticato per il fatto di esporre Alba sui social io ritengo invece che sia una cosa importante perché lei ha dato modo a tante persone di conoscere la sindrome di Down di come approcciarsi correttamente anche a questa patologia quindi grazie grazie a Lello Maragno che riesce sempre a strapparci un sorriso grazie alla collega Mari Lumusto e grazie a Claudia che naturalmente ricorda i social per la prossima puntata di Lenti di Ingrandimento che la dedicheremo alla città di Gaeta e come Gaeta ha saputo crescere in questi anni con un turismo spalmato durante tutto l'anno ricordo quindi che potete sempre contattarci tramite il numero whatsapp di Televomero 3394628565 o tramite l'indirizzo email redazionechiocciolatelevomero.it ci trovate su tutti i canali social facebook, youtube, twitter, instagram potete scaricare la nostra app sui vostri dispositivi mobili e visitare il sito www.televomero.it grazie Claudia quindi ci ritroviamo mercoledì prossimo sempre qui a Lente di Ingrandimento buona serata a tutti grazie ancora ai miei ospiti grazie a tutti